Ho finito la mia carriera a Forlì anche se ho giocato poco, però sono stati due anni molto belli, mi sono divertito, avevo con me in squadra Daryl Dawkins che era un personaggio straordinario, tra l'altro il presidente allora era Corbelli, dopo diversi anni, quasi 20 anni ci ritroviamo tutti e due assieme, ci ritroviamo sia come dirigenza che come partita contro Forlì, una partita molto sentita mi sembra, devo dire che queste sono le partite che mi fanno rimpiangere il fatto di non essere più giocatore perché sicuramente giocare al Palafiera con, penso, diversa gente da Forlì ma anche spero e ho sensazione di parecchia gente anche da Rimini, spero che sia una partita bella, che sia solo una partita, non è la partita, quella di non ritorno, speriamo sia solo una partita, è un bello spettacolo e come si dice in questi casi vinca il migliore, ovviamente Rimini.